Gioca lo sparatutto più brutale dell'anno Warhammer 40.000 Darktide, atteso action shooter in cooperativa da 4 giocatori, da un pluripremiato team di sviluppatori, preordina e gioca subito, sciagurato. Video sponsorizzato dai cari che avete appena visto, sto Warhammer pare un piuttosto divertente devo dire, e siccome lo si gioca in co-op e basta con altre 3 persone, si parla di multiplayer cooperativi, la top vuole essere a tema, quindi benvenuti ragazzuoli e ragazzuole su una top video ludica come al solito ricca di consigli, di rubette da giocare, con 10 tra i migliori e più divertenti videogiochi in co-op di sempre. Fatemi sapere qua sotto quali aggiungereste, quali avete già giocato, quali no, quali vi hanno fatto schifo oppure no, e andiamo! E a incominciarmi raccomando condividete questo video con tutti quanti i vostri amici, iscrivetevi al canale, fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto e andiamo! Alla numero 10 abbiamo Castle Crashers, direttamente dai 14 anni fa, molti di voi staranno pensando anche ma hanno già inventato il mondo 14 anni fa? Boh, dice, comunque magari non esisteva la vita sulla Terra, ma esistevano i Flash Games, quelli sì, anzi c'erano solo quelli, e questo fu l'epitome, l'apogeo, la cuspide, quel periodo che va ancora oggi su Steam, 4 cavalieri con i capoccioni, perché come diciamo sempre i capoccioni che fanno, fanno sempre ridere, oh va c'è il capoccione! Hai già venduto un milione di copie che vanno in gira a picchiare tutti i cattivi del regno, venduto come un picchiaduro a scorrimento, in realtà è uno sbotonamento a scorrimento, basta premere per generare caos casuale colorato, follia omicida comica garantita! Alla numero 9, Snipperclips Plus, diamoci un taglio, tolone direi, era meglio l'originale giapponese, sunippasukurippasupurasu, e non sto scherzando, fu, pochi lo sanno, il titolo di punta di lancio della Switch all'uscita, non gli daresti un soldo bucato, e invece, non vi nego che è un gioco che ha la prerogativa di far sentire parecchio mentalmente incapace, altresi detto anche povero coglione, il giocatore quando stai 30 minuti sul rompicapo e la soluzione era così semplice e ovvia che il capo lo rompi veramente subito dopo quando lo sbatti sulla parete adiacente, l'estetica paperwork da simpatica copisteria, non so perché, ma sembra essere una di quelle cose immortali che andranno per sempre fino alla fine dei giorni, come la Coca-Cola e le guerre in nome della religione, muovi le clippine in simultanea per fare tutti quanti incastri ingegnosi ed è bello. Alla numero 8, Deep Rock Galactic. Se quando da bambino ti chiedevano che vuoi fare da grande, tu rispondevi il nanominatore su un asteroide invasso da insetti assassini, rockety rock and stone. Questo è il gioco che fa per te, in realtà si può giocare anche in solitaria, ma vi privereste della presenza di altri tre nani che ruttano, urlano, imprecano attorno a voi, rendendo l'esperienza uno dei lavori di gruppo videoludici più soddisfacenti veramente degli ultimi anni. Uno trivella, un altro piazza e radar, un altro spara, il quarto balla, il tip-tap in un angolo cantando cori da stadio. Descrivere la scena non rende minimamente giustizia all'esperienza no sense del tutto vissuto sulla propria pe... Alla numero 7, Unravel 2. E' il seguito di Unravel 1, no, era soltanto Unravel e basta, bellissimo. Anche quello, tra l'altro, se nel primo i movimenti dello Yarny, il pupazzetto di filo, erano quasi troppo semplici da gestire, giustamente nel 2, perché non renderlo anche collaborativo senza che risulti tale però? Due Yarny dopo una tempesta si ritrovano su un'isoletta e uniscono i fili, chiaramente è fatto per essere giocato in coppia, ma si possono gestire i movimenti di entrambi anche da soli, però si perderebbe completamente il piacere dell'incomprensione. Quando allunghi il filo e uno deve saltare l'altro fermo e quindi quello che deve stare fermo salta e quello che deve saltare sta fermo. Uno corre, l'altro si blocca, quello si intreccia, quell'altro casca, uno lancia il pad sulla tempia del giocatore che gli sta accanto. Alla numero 6 Cuphead, allora io ho sempre avuto un'opinione impopolarissima sul Cuphead, ossia che non è per niente difficile, se hai finito uno qualunque dei Metal Slug dal 3 in poi, Cuphead sembra la versione per i bimbi dai 3 anni ai meno 3 anni, ma c'è un hard mod, che non è l'hard mod che sblocchi a fine gioco per il completamento vero, ma è quella che subentra quando giochi con qualcun altro. Direte ma scusa Harry, ma sarà più facile, partono il doppio dei colpi? Sì è vero, partono il doppio dei colpi sulla tv e contro il tuo compagno di gioco, perché non ci si capisce una mazza di niente. Diventa un delirio di colori che probabilmente, se ti scoli 8 litri di infuso di ayahuasca, ti senti meno confuso, un manicomio con musica jazz dietro, che è anche molto, molto divertente. Lo sapete comunque, Cappetto. Alla numero 5, Overcooked All You Can Eat. Molto poco riesci a All You Can Eatare se si gioca come il gioco vorrebbe, ossia urlandosi a vicenda ordini e ingredienti, mentre non si riesce a completare manco mezzo piatto. È un simulatore di cucina molto realistico, visto che si può anche cucinare su una pedana al centro di un vulcano attivo, o su di una nave pirata ai cui tavoli rollano da una parte all'altra durante un mare in moto. In tutto questo i piatti hanno la tendenza a sporcarsi da soli, la cucina a prendere fuoco senza la benché minima ragione, i clienti ad arrabbiarsi, alcuni cuochi a morire affogati in acque artiche quando scivolano via dall'iceberg sul quale chiaramente si sta cucinando, o vengono risucchiati fuori dall'astronave su cui si ha il proprio ristorante. È il delirio esattamente come gestire una cucina nel mondo reale, dopo tutto, no? Alla numero 4, Rayman Legends. Ah, qui siamo con uno dei migliori non solo platform cooperativi, ma giochi in generale di sempre. Single, multiplayer, quello che mi pare è semplicemente strepitoso. I livelli musicali, tra cui quello con Eye of the Tiger suonato da degli scheletri mariaci, sono una roba che solo molti mariacidi potrebbero suggerire a uno sviluppatore. Il gioco di per sé in single è già il massimo, anche perché è freneticamente folle del suo nei livelli a tempo, cioè quasi tutti quanti i migliori. Se poi ci aggiungi anche altri tre player, nelle sfide quelle settimanali o mensili per dire, in cui tra l'altro puoi anche vedere gli spettri di altri giocatori esterni correre con te, quindi lo schermo è intassato da 27 Rayman diversi che saltano e esplodono in simultanea. Riuscire a fare mezzo metro è già di per sé un'impresa. Comunque, divertentissima, la colonna sonora. Eh, ma siamo su un altro pianeta proprio. Alla numero 3, it takes two. Letteralmente, se no, si può giocare al gioco dell'anno. Goti del 2021, meritato, immeritato che fosse. È stato bello vedere non il solito AAA, in cui ci si deve menà vincere quel premio dei Game Awards. Sono due genitori in crisi che si reincarnano nei bambolotti della figlia, che fa un po' a Ravel, fa un po' tanto a Ravel, anche quello che devono fare, soprattutto come a Ravel. È probabilmente il migliore, però, dal punto di vista dell'utilizzo ambientale scenografico. La casa in cui ti muovi dalla griglia alla scacchiera è bella da vedere, è anche gestita benissimo dal punto di vista degli enigmi, tra sdoppiamenti, riverse del tempo. Ci sta una quantità di soluzioni sinceramente mai vista in un gioco del genere. Ovviamente dico, magari vagamente generico dal punto di vista dell'art design, però vabbè, ci passi sopra. Alla numero due, Super Mario 3D World. Il 2013 pare essere stato l'anno dei Super Cup, qui abbiamo un classicone intramontabile, che mixa anche un minicomo di competitività tra i giocatori, perché, come avete visto, stiamo parlando solo di giochi in cui tocca collaborare, non party game in cui ci si picchia tra giocatori. Qui però, chi fa più punti porta una corona, inutilissima quanto necessaria per... non si sa bene cosa, però è bella. Mario, Luigi, Peach e Todd, quattro super coglioni di fattura pregevole che cercano di menare Bowser. Questa storia, mi pare di averla già sentita da qualche parte, non esattamente originale, nemmeno nei minigiochi proposti, ma è semplicemente magnifica la responsività dei comandi, degli effetti sonori fantastici, mentre fai tutto quello che fa il caos bamboccioso. Si avvicina sinceramente al co-op perfetto, proprio poco da discutere. E alla numero 1, Portal 2. E Portal 1, solo che si chiama Portal 2, ed è fatto per due persone. Tutto torna, perfetto. Si può giocare in realtà anche da soli, ma la co-op, in coppia, in co-oppia, perfettamente pensata per avere puzzle risolvibili, con due portali ha qualcosa di indicibile. Innanzitutto è troppo complicato, quindi fa sentire dei geni quando ce la si fa, però praticamente mai. E' tipo il peggio, cioè nel senso il peggio del più difficile Nintendo, di Talos Principal, all'ennesima potenza, molto peggio di Portal 1, pensato per due menti che dovrebbero pensare a loro volta assieme, e invece si urlano a vicenda, no, apri il portali, dove? Lì? No, lì, coglione, se lo spara sotto i piedi. Personalmente mi viene da pensare che si vengano a creare situazioni molto spesso, che neanche in fase di sviluppo saranno immaginati, perché non puoi sapere quanto disagiati saranno i tuoi due giocatori messi assieme, però ecco, è anche questo qui, di una fattura totale. E insomma, rigioca lo sparatutto più brutale dell'anno, Warhammer 40.000 Darktide, atteso action shooter in cooperativa da quattro giocatori, da un pluripremiato team di sviluppatori, preordine e gioca subito, folle! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.